My Hero Once Justice Posso scegliere solo Todoroki come personaggio quindi ok Anche se ci fosse stata Yaio Rosso avrei scelto comunque Todoroki Ovviamente Anche se ci sono Anche se ci sono Oh 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 Accidenti Non mi ha dato il tempo di Di reagire Perfetto ok ok ora ci siamo No 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 Annaggia Senti posso posso fare qualcosa Non posso fare niente Ok, vediamo un po' di far qualcosa Mannaggia Ah, tipo presa, ok Ah, racconto imbarazzante, non riuscivo a capire che diavolo stesse succedendo E comunque sia ti blocca il potere in Racerhead Quindi, se ti blocchi i poteri, come combatti con un personaggio che usa solo fuoco e ghiaccio di continuo? Non puoi fare nulla New Story Non puoi fare nulla 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 Perchèbbe Perchè, così Hai pensato che sia un uomo di questo? C'è! Todoroki! C'è un uomo! Aizawa è una operazione di Aizawa! Todoroki, non è che posso scegliere Iaiorozu, è impossibile. Già l'altra volta a giocare con lei è stato difficile, Todoroki almeno mo l'ho un attimo usato quindi so di preciso cosa fare. Todoroki, non è vero, non è vero. Perfetto, non proprio tanto perfetto però insomma ci siamo, dai. Beh però meglio di prima. E come? Ma se l'ho colpito io? Eh vabbè, aspetta, aspetta, guarda un po' che ti faccio mo. Niente, non faccio nulla, lascia perdere. Nonostante stesse proprio nell'area per colpirlo no. Il gioco ha detto no. Preso. Perfetto, dovrei finirlo così. Ottimo. Vio lento. Bello tosto eh. Questa è un momento. Grazie a tutti Grazie a tutti Più filmati che battaglie alla fine Grazie a tutti 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 Ok fammi capire Ok no Questo non mi serve molto Andiamo un po' Ah l'ombran C'è più o meno L'ombran è l'altro Questa è La cascata di detriti Casato contro Bakugo Questo fa male Aiuto Ok se ora non posso usare il Quirk Come lo uso? Come lo contrasto? Eccolo qua Wow 26 colpi? E tanti Tanti sono Almeno 200 danni Almeno Ma è andata bene Per essere la prima volta New story New story Ebbia certo Eccolo Dill Sempre Anche Anche Adesso Algo Anche Anche L'organ龜 Non lo so, non lo so Andiamo bene Andiamo sul sicuro Poi è il tempo per usare altri personaggi Ci sarà più che altro Ci sarà sicuramente durante Il capitolo del ritiro nei boschi Lì sicuramente ci sarà Combattete ragazzi All Might All Might Recreation E' questo Non è solo un rete Un solo un'attività E' un'attività C'è un'attività E' un'attività O'isturato D'Arc Shadow E' un'attività E' un'attività E' un'attività E' un'attività Com'è che si chiama il tizio del laser? Quello ancora non l'abbiamo usato Kaoyama? Non mi ricordo È uno dei personaggi secondari Di quelli proprio che Neanche Neanche la madre si ricorda come si chiama Preciso, preciso Preciso Meglio di questo non potevo chiedere Ottimo, ottimo Perfetto, perfetto, vai Così, così E vai Alla grande No, non così però, non così Bene o male riesco a fare il contraattacco Però se ce lo becco dopo sarebbe meglio Perché va a terra e continua ad attaccare E spreco tempo Se spreco il momento in cui sta a terra ad attaccare È ovvio che mentre lui si rialza non prende danno E però poi mi colpisce Quindi Cerchiamo di stare attenti Mancava così poco insomma Ho distrutto Ok Praticamente ora inizia il ritiro nei boschi Allora direi di fermarci qui perché il prossimo episodio sarà davvero Bello potente Vediamo lì un punto con Takoyami importante Allora direi di fermarci qui e continuare domani Domani ci saranno un bel po' di combattimenti Dato che comunque sia il ritiro nei boschi è solo di combattimenti Quindi ci sarà davvero da divertirsi Bene Kugia anche questo episodio di My Hero Once Justice termina qui Ed io come sempre vi ringrazio per averlo seguito E spero che vi sia piaciuto In descrizione vi ricordo inoltre il link per Twitter e Instagram E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo come sempre al prossimo video Bye bye Ciao Ciao Ciao